Ciao a tutti, benvenuti al secondo episodio di Jade Empire Special Edition, io sono sempre All e vediamo di continuare da dove siamo arrivati, per il momento non abbiamo fatto niente in realtà, abbiamo picchiato della gente ma sembrava pestata come l'uva quindi in realtà probabilmente non c'è ancora una sfida vera, dobbiamo parlare con Gujin per portare a termine la missione e iniziare probabilmente effettivamente il gioco. 30 minuti di gameplay e via con il liceo. Bene, perché insisti così, la vecchia lingua e tutti coloro che hanno un minimo di istruzione sono in grado di comprendere il Taofan, quindi mi ha dato pena dell'ignorante, capito? Signora Jin? Non fingere di essere... Sì, io non la parlo. Sono dei banditi in un'esplorazione qui a due fiumi, il maestro lì mi ha mandato prendere un'arma. No, non c'è tempo da perdere. E abbiamo un'arma per noi, nostra signorina. Vediamo cosa scegliere. Dove ho trovato queste armi? Armi leggendari. Vediamo la spada lunga, favorito della fortuna o il bastone stella dolata. Allora, qua abbiamo una bella scelta che andrà a inficiare i save game puri, quindi tutti i nostri amici che ci seguiranno dovranno usare perlomeno questa spada, almeno per i primi tempi. Allora, fortuna sorridente può essere mia, ma io voglio sapere se è più veloce o meno del bastone. Parlami del bastone. Ma questo ha ottima portata, ed è resistente. Allora, cosa prendiamo? Il bastone a me intriga molto, la spada è sempre la stessa. Il bastone invece riusciamo a fare come Donatello, più sfigato del tartaruga ninja. Prendiamo il bastone. Ah, perfetto, la proviamo e vediamo. Devo andare. Ciao. Ah no. 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 Ok. No, è arrivato ancora ciò qua, ma si caglia dosso tutte le volte. ok alla spiaggia dobbiamo tornare indietro quindi alla spiaggia in quanti sono dovrebbero essere molti e le mie abili mani abili vai di corsa alla scuola e avvisa tutti gli altri penso io vieni con me e insegneremo questi banditi una bella lezione fin dove sono arrivati in quanti sono ok ritorna alla scuola intanto tu sai solo correre e farti la cacca in mano e la posso fare ok bene 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 come si usa l'arma lo so non ho idea mai male un po si testiera avanti movimento attacco attacco parata attacco potente concentrazione ok f concentrazione colpo chi e per il precedente ok ok va bene sarà il modo andiamo dobbiamo andare alla spiaggia allora perché ah no ok io non ah è il bastone numero 3 proviamolo allora rompiamo la guardia e questo lo lo spappoliamo ci dà anche dell'energia perfetto dobbiamo parlare con la nostra amica no niente chiaro stai tranquillo allora dobbiamo andare in spiaggia questo si ammazza così ok abbiamo ancora il bastone mi piace ok ok siamo uno non so che qualcuno dello scuola ci verrebbe aiutati Nessun altro poteva farlo, no, nessuno Ok, qualcuno più esperto, vai, vai Ok, abbiamo preso 100 XP Andiamo su, c'è una pergamena Qua, no, mi insegna Ok, questa è la spiaggia Torniamo su Lo stile pugni Che c'ho i pugni nelle mani Ok, salva, salva Farsi interessante qua Siamo messi molto male Aspettate che vado a ricaricare Non avevo visto la bar energia Taglio, c'era qualcosa qua vicino Ah, non c'è qualcuno Mamma mia Sì, è vero Oh, no, no, la visuale mi uccide Ok Ah Era meglio curarsi, no? Vai, vai Allora, sì Ci conviene curare Il nostro Omino Omino Siamo nella mappa Monte dello spirito Vabbè, dobbiamo tornare su Quindi a bottega, ad armi Abbiamo tutto quello che ci sia Una volta curati Andiamo a Garli Come fabbri Forse C'era qualcosa qui dentro Questo riprendiamo Concentrazione E là c'era lo spirito Ah, è vero C'era la possibilità Di recuperare lo spirito Per guarirsi Tutti i meccanismi Da maneggiare Con cura Allora Qui c'è Qua sappiamo Tre persone Che ci Vogliono Ammazzare Però in realtà Ok Non ho capito Uh, ah Si cambia bersaglio Eh, I need heal Ah, fine mappa Fine mappa Ok, c'è il fine mappa Semento è fine Fine Siamo di guarigione Dai, cavolo Guarigione, guarigione Guarigione Ok Va bene, andata Mamma mia Fine Abbiamo niente vita Vediamo un po' Cosa si trova nella botte Forziere del paesano Trovi una sacca piena di denaro In questo forziere Va bene Qua cos'è Quella dell'alba Ah, è lei Cosa No, allora Con questa pessima Forma fisica Andiamo a recuperare di nuovo Il chi E poi andiamo verso la spiaggia Mamma mia Mamma mia Dai, dai Dai, dai Dai che ce la fai Non ci sono pozioni Quindi bisogna mantenere il chi Per guarirsi Fatto Usare meno il bastone Forse Più I pugni Questo è fatto Siamo Per di spirito Siamo sull'orlo Della morte Ok Perfetto Perfettissimo Salvo Avanti signorina Corriamo verso la spiaggia Dove ci pesteranno Come L'uva Quando è ora di fare il vino Ok, qua c'è qualcuno Sì Qua Sì Eh sì Ovviamente Comunque la fronte lì Che vuoi fare Ah 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 Mi devo parlare Ah, è il colpo potente Quindi non serve Merda Ok 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 Mamma mia Ah, pensavo sia una mimica Alla mia amica? Eh, I need heal, si Aspetta, aspetta che mettiamo Questa Ok Vai Ah, la mia amica è morta Eh, ok No Io qua ci credo Eh, ma le master Non sbaglio No, cazzà La mia amica Vai Cap anche signora Tac Vai Livello in più Cosa sei? Un'anomalia nella forza Io ci tiro la crepa qui Non sono mica così abile Eh, ok Ok, ok Vediamo di schivare Un po' Reggono in due Reggono in due Guarda, via, via Spara ancora Sto storico Vai Gesù È fatto Ha fatto più la mia amica Che me Però va bene E anche lui? No Ah, sì Che cazzo sei Ok La strategia quindi Ah no, arriva il vecchio Grande vecchio Devi arrivare un po' prima, eh Oh Però forse l'ernia Non te l'ha permesso Ah no Sta scappando il vecchio Ah, forse deve andare in bagno No, arriva, arriva Un po' va la cacca Di caso Ah no, arriva il vecchio Oh, grande che si danno! I cazzi! Vecchio è da sposare! Dawnstar può esprimere la natura di soli creature. Devo andare e assicurare che tutto sia in place. Pensavo che avessi più tempo, ma potremmo sei pronto. Grazie, mi avrebbe aperto il culo. Ok, chiudiamo la scuola. Ok, abbiamo fatto il primo combattimentone. Quando disponi di punti esperienza a sufficienza per salire di livello, nella parte sinistra dello schermo apparirà un'icona gialla a forma di freccia. Accedi alla schermata registro del personaggio e clicca sul tuo personaggio per salire di livello. Ok, noi abbiamo fatto un livello, quindi. Vediamo un po', dobbiamo aumentare di livello. Questa schermata ti permette di spendere i punti per migliorare le tue caratteristiche. Puoi anche cliccare su equilibrio equilibrato per distribuire i punti automaticamente e creare un personaggio equilibrato. Noi non vogliamo un personaggio equilibrato. Allora ho visto che durante questi combattimenti la cosa che veramente è andata giù in fretta è la vita, l'energia e lo spirito. Perché poi sono bassi. Ora io direi di portare su... Ho solo quanti punti ho? Uno. Un punto. Direi di portare su corpo perché un po' di rodino ci fa comodo. No, ho letto malissimo. Ok, allora facciamo così. Portiamo a 7 questo. E lo spirito aumenta il key. Quindi intuito e intimidazione. E' importante. L'adulazione e intuito è molto importante. Allora, vediamo un po'. Portiamo su vita. Poi allo spirito ci penseremo dopo. Direi che così dovremmo avere una buona riserva di energia per prendere delle noci in faccia. Anche se sono sicuro che Westfall per esempio non subirà nessun attacco, nessun pugno. Bene, andiamo avanti. A disposizione 10 punti stile per potenziare i tuoi stili di combattimento. Benissimo, benissimo. Allora, Militaria l'abbiamo usato parecchio. Onda Divina non l'ho ancora provato. E ciò non va bene. E vediamo un po' come si fa. Aumento di livello. Punti stile. Mille tagli. Abbiamo aumento danno. Danno key. E aumento velocità. Oddio. Allora, aumento danno. Tutti i danni inferti con questo stile vengono aumentati al 25%. Per il resto uno sicuramente sì. Poi, ora puoi eseguire dei colpi key avanzati. Ciascuno di essi consuma una maggiore quantità di key, infliggendo però più danni. Premo il tasto per entrare in modalità colpo key. Non ci siamo ancora entrati. Un punticino io lo prendo perché non so né leggere né scrivere. Aumento velocità. Velocità di attacco base. Per sempre. Vogliamo un personaggio veloce? Andiamo, veloce. Perfetto. Salvare modifiche sì sì sì. Bene. Onda Divina. Onda Divina non l'abbiamo ancora provato. Danno key. Aumento durato, aumento velocità. Direi di mettere aumento durata perché ci potrebbe far comodo. Adesso non so come funzioni però un punticino lo buttiamo qua. Della dorata. Allora, ecco, direi di ridurre il costo della concentrazione perché ci stava consumando parecchio. Un punto qui. Aumentiamo. Danno lo aumentiamo. Ma sì. E basta. E gli altri due punti io li butto in mille tagli perché... Dare le noci di mano. Allora, quattro punti per aumentare velocità. Aumento danno? Sì. Punti stile zero abbiamo fatto. Ok. Quindi abbiamo portato due danno. Stiamo andando su mille tagli. Poi qualcun altro farà qualcos'altro. Perfetto. Gli abbiamo spesi tutti. Usciamo. Eccolo qua. Parlano. No, e poi ha ucciso un teletportatore come se niente fosse. Ma questi erano diversi. Quello sorcerer forza loro ad appare come uccidere i cattivi. Molti spiriti sembra perdono. Come se il passaggio a loro restare è bloccato. Non pensavo erano pericolosi, ma quelli sulla piazza. Ho sentito una malattia. Il tempo li riuscì. Questo è Sparta. L'hai disruttato con la battaglia in combattimento. Non si riferiranno per un lungo tempo. Ho spero che ci sia pazza in questo, ma non lo so. Tanto tanto mi preoccupa. Magari un'altra volta. Ma non fa niente. Vabbè, allora parliamo. Mi rompi i coglioni. Cosa c'è? Vuoi parlare di attacco? Dai. Ero abbastanza preoccupata quando stavamo aspettando i banditi. Ora invece sembra che ci troviamo ad affrontare dei pericoli che non conosciamo nemmeno. Maestro Lee ha chiamato quello stregone un assassino, che è poi quello che dovremmo diventare noi, immagino. Spero. Spero tantissimo. Povera. Pucciolo. Non ti ho chiesto storie... Ok. Dovevi... Dai. Storia della vita. Facciamo la storia della vita. Posto per te. Ok. Sempre in movimento che non restavo mai a lungo in un posto. So perché ma le vesti di quello stregone avevano un aspetto a quanto familiare. Era tuo padre. E tu vedi la gente morta. Non so cosa ho spinto. Ma lei piace perché parla. Quindi siamo arrivati tutti così. Dal nulla. In trent'anni non ho avuto tempo di informarsi. Vabbè. Sì, sì, sono io. Non vedi come sono? Deve essere angosciante. Per ora è tutto. Basta. Brava. Sarò per i coglioni. Quasi sono delle palle da raccogliere e a noi le palle piacciono. Le palle dovrebbero dare del potere in più. Immagino. E... Ah, forse la ricarica. Forse la ricarica. Vediamo un po' il diario che ci dirà di andare da lì. Allora. Direi che facciamo in tempo giusto giusto a tornare dal maestro lì. Anche se sarebbe bello. Ah no. Qua è da esplorare perché c'è. Che roba. Fino dei banditi. Comodo, comodo. Perfetto. Allora. Torniamo dal maestro lì. Siamo carichi perché abbiamo fatto il livello, immagino. È una buona cosa che abbiamo il maestro lì qui. Sì, sì. Ha tirato giù una nave. Fai te. Andiamo alla scuola. Salvataggio. Allora. Allora. C'è questo qua che è il caccatore. Il giorno diventerai come me. Ma dipende. Devi fare una cura ormonale, ragazzo mio. Arrivederci. Andiamo a scuola. Cosa? 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 Un bambino. Pampino. Parla, Pampino. Pampino. Guarda qua. Bene, bene, bene. Andiamo dal maestro Muten. Ecco il maestro Muten. Parliamo con Muten. Ah, sono tornata. Eh sì. Bene. Dai, dai, dai. No, la grotta. Dobbiamo incontrare il nostro vero nemico? Noi stessi. Noi stessi. È un paraculo, misate. È un paraculo. Se hai spento meno tempo coddlingerla, avresti molti studenti promissi, invece di uno. Ehm... Nessuno mette in discussione le tue abilità. Facciamo i superiori, perché c'è il maestro Muten lì che ci guarda. Questo non è un modo che può essere deciso per l'esercizio, Kao. Ci sono cose che si spaziano che non capiscono. Sì. Vai, vai. Ehm... Beh, direi che ci batterai facilmente. No, no, non ce la fa fare. Lo farete nell'arena. Ehm... Sì. Io direi che questo lo lasciamo a West. Così entra a brutto muso nella situazione. E perché? Stiamo per finire il nostro tempo. Sì. Benissimo. Tornerò quando sarò pronta. Sparata. West, ricordati le basi. Bene, amici. Direi che abbiamo finito. Qua siamo... Siamo... Siamo ritornati alla scuola. Abbiamo una sfida pronta, pronta. E subito dopo ci aspetta un incontro nella grotta dello spirito. Che sarà... Qualche cosa per sdoganare il tutorial. Il nostro tempo a disposizione è finito. Io vi lascio appuntamento al prossimo video che sarà gestito dal nostro mitico West il prossimo raccoglitore della staffetta. Se vi è piaciuto quello che avete visto, ditecelo. Se non vi è piaciuto, ditecelo lo stesso. Tanto... Siamo persone con del pelo sullo stomaco. Anche perché ci guardiamo allo specchio tutte le mattine e un po' di abitudine abbiamo fatta. E spolliciate su o giù. Non importa il verso. Tanto vale sempre. Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!